Aspetto di capire come questo film sia all'interno del Marvel Cinematic Universe o comunque collegato in qualche modo allo Spider-Man di Tobey Maguire, a quello di Tom Holland e anche a quello di Andrew Garfield, visto che nell'ultimo trailer c'è l'Oscorp, il palazzo della Oscorp di quel film. È un po' brutto da dire ma aspetto più Morbius non tanto per il film anche se comunque sono curioso di vedere se lasceranno le tinte quasi horror che si sono viste nei trailer e nelle clip perché diciamo mi piacerebbe vedere quel Morbius e non un altro comico di Colorado come Venom, però aspetto più il film per quello che lo circonda e quello che potrebbe introdurre all'interno del Marvel Cinematic Universe nello Spider-Man Sony Universe. La risposta alla domanda presente nel titolo di questo video secondo me è no. Morbius non fa schifo. Morbius è un film comunque di intrattenimento che riesce nel suo intento, ci sono alcune scene a tema horror che secondo me sono anche riuscite, sia per regia che per fotografia che ambientazione in generale. E poi vabbè, il personaggio tutto sommato mi ha convinto il villain anche, non ci vedo nulla di male, infatti non sono d'accordo per niente con tutti quelli che dicono che sia un film da buttare nel cesso fin dall'inizio, poi senza uno svolgimento, senza una sceneggiatura dietro questo Morbius. Poi le post-credit in realtà mi hanno anche convinto, sono sulla falsa riga di Spider-Man No Way Home, non trovo questo no sense delle post-credit, quindi mi trovate totalmente in disaccordo con quello che dicono praticamente tutti di questo Morbius. Non lo sapevo, scusatemi. Mi informano che probabilmente Pesce d'Aprile è solamente il primo giorno di aprile, non tutto il mese, quindi sì, Morbius è una merda. Questa recensione sarà spoiler, quindi se non avete visto il film uscite dal video. Per quelli di voi che ancora non se ne sono accorti, quindi grandi aspiranti Daredevil, in questo video starò senza occhiali. Questo perché ho cambiato un po' la formazione delle luci e davanti, ora qui, c'è la ring light che con gli occhiali renderebbe così e non mi fa tanto impazzire perché mi è stato detto più volte che sembro un T-800 di Terminator e quindi diciamo non è quello il mio intento. Non so se rimarrò per sempre senza occhiali nei video, però è un'idea che sto mettendo in porto perché anche mentre edito odio davvero quel riflesso negli occhiali. Prima di iniziare con la vera recensione di Morbius, vi informo che in descrizione trovate tutti i link dei miei social, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione. E come sempre anche il link di Pampling dove trovate t-shirt, felpe come quella che indosso oggi, scarpe, calze, poster, cover, tazze, zaini che tra l'altro sono solo 14,90€ l'uno. E vi informo come sempre che c'è il codice ilpensiero4 che vi dà un paio di calze gratis e il 20% di cashback su un acquisto. Per esempio spendendo 40€ con la promo 4x40 che vi permette di avere 4 t-shirt a soli 10€ l'una, avrete da questi 40€ 8€ di ritorno che si andranno a sommare ai punti Pampling che poi possono essere spesi appunto in un ordine successivo. Approfittate anche del mio codice perché comunque è un modo per supportare il canale. Ripeto, link in descrizione. Adesso però parliamo di questo Morbius. Ripeto, recensione spoiler quindi uscite dal video se non avete visto il film. In realtà devo ammettere che non ho mentito al 100% con l'intro un po' così diversa dal solito perché secondo me non è totalmente un... una merda Morbius. Lo è per il 98% sì, ma ci sono alcune cose che sinceramente non mi sono dispiaciute. Non dico che mi siano piaciute, ma almeno non mi hanno fatto schifo. E so che sono davvero una voce fuori dal coro, ma Jared Leto, che solitamente non apprezzo nemmeno, qui l'ho trovato abbastanza in parte. Non dico bravissimo perché comunque non è che abbia dato questa grande interpretazione, ma l'ho trovato più o meno convinto per il ruolo che stava interpretando. Poi in realtà non mi hanno fatto schifo nemmeno i primi dieci minuti del film, che su un'ora e quaranta è un po' un tempo piccolo, però non mi hanno fatto schifo. Anche se poi in realtà il film parte con quella scena in Costa Rica che è abbastanza strana fin dall'inizio perché vuoi catturare dei pipistrelli? Perché lo fai in questo modo, però lasciamo perdere perché ci sono tante cose senza senso in Morbius e questa è una delle tante. Però comunque come è iniziato il film, le atmosfere che c'erano, tutto sommato non voglio criticarlo fin dall'inizio. Poi dopo che compare appunto il vero Morbius, quindi il vampiro, dall'inizio è lo schifo, almeno lo schifo totale. Perché fino a quel punto c'era un mezzo schifo, poi c'è lo schifo. Infatti dopo aver visto il film sono andato nel dizionario, nella dicitura schifo c'era accanto disegnato Morbius con del sangue nero. Tanto per rimanere comunque in continuità con il film, visto che non c'è una goccia di sangue, o meglio c'è... Qualche scena con del sangue c'è, qualche scena, veramente due o tre contate. Stiamo parlando di un film su un vampiro che per mestiere succhia sangue, in realtà è un dottore ma il vampiro succhia sangue, e si vede, si vedono pochissime scene con del sangue e quando si vede è nero, non è nemmeno rosso. Sarà forse per la fotografia, sarà che volevano tenere il film molto family friendly e quindi... No ragazzi, non è sangue, è cioccolato. Sangue no, è sicuramente un'altra cagata che si aggiunge a questo film. Parlando proprio del personaggio, ripeto, Jared Leto tutto sommato non mi ha fatto schifo fin dall'inizio, l'ho trovato più o meno in parte, però il personaggio è abbastanza idiota e anche caratterizzato tanto quanto la ring light che mi sta cecando in questo momento. Michael Morbius, protagonista del film, dovrebbe essere un personaggio interessante ma soprattutto intelligente perché ce lo caratterizzano, tra virgolette, così fin dall'inizio, con il salvataggio della vita di Milo, questo altro personaggio molto interessante caratterizzato quanto questo pezzo di carta che ho trovato qui in mezzo. Vabbè, lasciamo perdere. È un personaggio intelligente. E allora perché fa il 90% delle cose che succedono in questo film? Prima cosa tra tutte è la cattura dei pipistrelli, almeno quella che dovrebbe essere la cattura dei pipistrelli in quel modo. Si taglia la mano, la mette lì per attirare i pipistrelli e i pipistrelli gli vanno addosso. Qualcuno per caso durante i suoi studi l'ha informato che i pipistrelli portano anche malattie e lui si è letteralmente fatto investire da questa massa di pipistrelli. Poi vabbè, in realtà ci sono altre stupidità che sono soprattutto enfatizzate dal montaggio del film che è probabilmente la cosa più criminale di Morbius e di Milo messi assieme, visto che Milo è il criminale. Visto che l'ho citato, parliamo di Milo. Quanto sarebbe stato bello se nel mondo del Sony Spider-Man Universe, almeno penso sia ambientato in quel mondo, poi ne parleremo. Quanto sarebbe stato bello se non fossero mai esistite le penne? Comunque questo Milo o Lucius, Lucius, mi pare si chiami così perché ho visto il film una volta sola e viene chiamato con il suo vero nome due volte, in un'ora e quaranta di film. Una volta si chiama lui da solo, si presenta a Morbius, ciao mi chiamo Lucius, devi chiamare Milo. E così lo chiamano per tutto il film, ti vorrebbero fare scendere la lacrimuccia poi quando nel finale è Morbius a chiamarlo Lucius, spoiler, non ci riescono. E non riescono nemmeno a farti scendere le lacrimucce in alcune scene che dovrebbero, in teoria, vista la costruzione, costruzione di quelle scene, dovrebbero farti scendere queste lacrimucce. Comunque questo Milo, che in realtà si chiama Lucius, diventa il villain. E come? Cioè, così, a caso? Sì, diventa il villain, da un momento all'altro. All'inizio ci viene presentato così, come questo ragazzo con dei problemi fisici naturalmente, è un po' sottomesso comunque, ma ricchissimo, Lucius, ragazzi, non mi ricordo assolutamente come si chiama, Lucius, in questo momento con Lucius mi viene in mente il padre di Draco, però Lucian, Lucian, non... A inizio film in realtà si vede che lui è già ricco di partenza, quindi non ha fatto nulla per diventare ricco, era ricco di famiglia. Infatti si presenta in Smoking, se non sbaglio lo accompagna anche un'auto di lusso, quindi è una cosa di partenza. Sì, ok, magari è una cosa di secondo piano, ma viene un po' spiegata almeno la sua ricchezza. Mettete tutto sempre, tra virgolette, soprattutto quando dico la parola spiegato. Dove nasce il problema di Milo? In realtà non nasce nessun problema, il problema è proprio Milo. Perché da un momento all'altro diventa villain così a caso. Sembra il ragazzo tranquillo, da sentirsi oppresso a dissanguare gente che non si merita nemmeno questa fine, come per esempio l'edicolante che gli dà il Daily Bugle. Beh, quindi villain caduto dal cielo totalmente a caso. Visto che parliamo ancora di personaggi, voglio parlare del mentore di Milo e di Morbius, che compare per due scene, in una di queste muore, e loro vorrebbero farti piangere in questa scena perché è una scena carica di pathos, molto importante per la crescita emotiva di Morbius, solo che appunto compare all'inizio e compare solamente nella scena di morte, e questo effetto da lacrimuccia non avviene. Poi a livello tecnico ho detto che il montaggio è la cosa peggiore di questo film, ci sono scene praticamente troncate, anche mentre proprio un personaggio sta parlando, tac, taglio e buonanotte. La CGI fa avvenire i brividi, soprattutto quando i personaggi non sono presi da vicino, ma anche in qualche primo piano di Morbius o di Milo, trasformati naturalmente, c'è il brividino che viene, è sicuramente una cosa devo dirla, verso metà film ero abbastanza impegnato, non a seguire il film ma a cercare le palle che erano cadute da qualche parte, perché infatti mi sono abbastanza rotto velocemente. Per me è un grandissimo no. Poi, non parliamo delle post-credit, che assieme al montaggio sono la cosa peggiore del film, e non voglio dire nient'altro perché l'hanno detto praticamente tutti, che queste post-credit non hanno un minimo di senso e secondo me non si deve nemmeno provare a dargli un senso perché è impossibile trovarlo, con mille teorie è impossibile pure trovarlo. Morbius che per l'intero film è stato bravo, quello che diceva no, dobbiamo salvare le persone e non cercare di ucciderle, intrigante. Adrian Tooms, che come i migliori carcerati è riuscito a, in prigione, a nascondere, ad occultare l'armatura in un certo posto, forse è un po' troppo grande, non so se ci sia riuscito realmente, però l'armatura è quella, quindi non so da dove possa averla presa, e basta, non voglio dire altro, ci sono miliardi di video che parlano di queste post-credit, che le demoliscono perché è quello che si meritano, e il primo che mi dice davvero nei commenti che hanno un minimo di senso, soprattutto dopo Spider-Man No Way Home, che a sua volta non ha senso in realtà, nascondo l'utente, lo dico eh. Piccola parte in voiceover aggiunta dopo perché durante l'editing mi sono accorto che non ho letteralmente nominato una sola volta il grande scam che è questo film, perché sono state tolte tutte le scene che facevano riferimento a Spider-Man, a parte vabbè l'avvoltoio nel post-credit, quello lo conto un po' come un riferimento, un po' come il grande casino che sta combinando Sony, però reputo questa una mossa davvero stupida da parte di Sony, visto che è una truffa. C'è chi mi ha detto anche in privato, eh ma state distruggendo tutti questo Morbius solo perché non compare Spider-Man come volevate? No, prima cosa stiamo distruggendo Morbius perché è una merda di suo, seconda cosa stiamo distruggendo anche Morbius, stiamo dicendo che è una mossa orrenda quella che ha fatto Sony, perché nei trailer ci sono tutti questi riferimenti, non è che ci siamo noi inventati questi riferimenti a Spider-Man. Se fosse stato così per No Way Home, magari dopo anni di speculazioni su Andrew Garfield e Tobey Maguire nel film, loro non ci fossero stati? Ok, lì cavoli nostri, non è un problema di Sony, di Disney, di chiunque si siano, perché quelli li volevamo noi. Ma qui il murale di Tobey Maguire l'hanno messo loro, la Oscorp l'hanno messa loro, il Daily Bugle che fa riferimento alla Black Hat e Rhino l'hanno messo loro, non noi, non siamo i montatori del trailer, fortunatamente. E poi in realtà mi fa anche ridere il regista che si discolpa del murale di Tobey Maguire nel trailer. Mossa, triste, stupida e insensata. Io ho abbastanza paura per il futuro del Sony Spider-Man Universe, ho abbastanza paura per il futuro di Spider-Man in generale, soprattutto anche dopo Spider-Man No Way Home, che ripeto, mi è piaciuto, ma solo per un fattore emotivo, e non perché si possa definire film, non è un film. E prima di concludere questa recensione, volevo fare una mini recensione in realtà, non volevo parlare molto, infatti non so nemmeno quanto arriverà il video, ma ho registrato per una trentina di minuti. Prima di concludere la recensione voglio dare un voto al film, e il voto a Morbius, naturalmente è un 8 pieno, perché è il voto che si merita, però scalatelo di tipo 6-7 voti, quindi gli diamo un 2, perché è questo il vero voto che Morbius deve ottenere. Lo dico sempre, l'ho detto anche su Instagram tante volte, non dovete sentirvi in difetto se vi piace un film di merda come questo. Non dovete sentirvi meno intelligenti se vi piace Venom 2, se vi piace Morbius, se vi piace anche Venom in realtà, perché comunque esistono i gusti, ma bisogna certe volte anche riconoscere oggettivamente pregi e difetti di un film. Solo che questo film non ha quasi pregi. Ci sono i difetti di Morbius e poi ci sono i pregi, probabilmente, ma ragazzi, la recensione finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di Morbius con un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale per supportarmi, attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video, seguitemi su tutti gli altri social come Instagram, TikTok, Twitter, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare in un altro modo il canale, con il codice vi verrà dato il 20% di cashback e un paio di calze gratuite a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale Andri passa e chiude. Ciao!